Buongiorno a tutti Quindi ci sono anche gli viaggi Dopodiché se ne stanno lì Comunque fra le solite cose E alla fine comunque Viaggia con loro e si mette con Lucas Ma perché partecipa al PWT adesso? Perché semplicemente Ha voluto farlo Ha voluto farlo proprio per lei Perché vuole vedere se Veramente sa combattere Vedere se è scarsa o meno Perché comunque Non l'ha quasi mai combattuto contro persone Quindi vuole vedere se è forte Se ha creato una squadra di 100 Quindi chiaramente Non è che sarà incredibile Ma comunque Ha una squadra carina